E' molto interessante oggi, come sempre, logicamente, confrontare la prima lettura con il Vangelo, perché c'è un rovesciamento di prospettiva, ovvero sia nella prima lettura c'è il famoso rimprovero fatto per mezzo del profeta di Zechiele da parte del Dio di Israele ai pastori, a coloro che governano il popolo, a coloro che lo pascolano, perché si sono comportati male, non hanno veramente fatto il bene del popolo di Dio. E allora Dio a di lato dice, io stesso cercherò le mie pecore, siccome non lo fate voi, le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo egregio, no? E cosa farò? Condurrò le mie pecore al pascolo, le farò riposale, andrò in cerca della pecore perduta, riconderrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e currerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte e le bascerò con giustizia. Ecco, questa prospettiva ci fa vedere un certo tipo di realtà, quella cosa per cui siccome gli uomini non si sono occupati dei loro fratelli, Dio stesso andrà a occuparsi di questi bisognosi, di queste persone che hanno bisogno di cura, secondo le loro diverse necessità. Invece il Vangelo rovescia la prospettiva, se ci pensiamo bene, perché sì, da una parte compare questo re pastore, il quale fa, come dice proprio l'ultimo versetto della prima lettura, giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri, e cioè divide, discerne, chiarisce quello che è il confronto fra le opere di alcuni e le opere di altri e metterà alla destra e alla sinistra. Chi ha fatto che cosa però? Qual è il principio di discernimento per capire dove vi è messa una regola, dove vi è messo un capro? Ecco, ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sede e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, non mi avete vestito, domanda dove mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi, oppure non lo avete fatto. Nella prima lettura era il Signore che si prendeva cura del suo popolo, qui è ognuno di noi che si prende cura di qualcuno, ed è curioso, avevo fame, cioè Dio si cura di noi, nella prima lettura perché noi non abbiamo carità fra di noi, nella seconda lettura noi siamo chiamati a prenderci cura, curiosamente, di Lui. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, cioè chiamati tutti quanti a essere pastori, chiamati a dare da mangiare a qualcuno, chiamati a visitare qualcuno, chiamati a curare qualcuno. Dov'è il punto? Beh, ce ne sono due. Primo, innanzitutto, ognuno di noi ha qualcuno di cui prendersi cura. Attenzione, quando partiamo per grandi opere eclatanti, altisonanti, magari molto estranei al nostro contesto vitale, partiamo da quello che già Dio ci ha dato da fare, perché non ci succeda che noi ci stiamo occupando di non si sa chi, mentre non ci stiamo occupando della prima emergenza che ci circonda, delle persone che Dio ci chiama per prime, in un discernimento che va fatto con semplicità, con serenità, le persone che Lui ci affida, secondo ministero, secondo quello che è la nostra propria condizione. Prima di tutto, quindi, noi abbiamo da servire qualcuno, sicuramente. Non c'è ombra di dubbio. Ognuno di noi è chiamato a servire qualcun altro. Noi non viviamo se non ci serviamo reciprocamente. Nessun uomo, nessuna donna può vivere se non è aiutata da qualcun altro. Noi tutti abbiamo bisogno di essere pascolati. E noi tutti siamo quindi chiamati a pascolare qualcuno, a pascere qualcuno, a occuparci di qualcuno. Ma la cosa interessante è appunto il rovesciamento rispetto alla prima lettura. Quando faremo questo, in fondo, stiamo occupandoci di Cristo. Infatti, qui sia i buoni che i cattivi non riconoscono. Dicono, ma quando mai ti abbiamo visto e ti abbiamo dato da mangiare? Oppure, quando ti abbiamo visto affamato e non ti abbiamo dato da mangiare? E svelerà questo re pastore che era nascosto nelle persone che erano intorno. Ovvero sia, ogni volta che avete fatto questo ai miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Qui è il cambio fra le opere di semplice filantropia con la carità cristiana. La carità cristiana è molto diversa dalla filantropia, in quanto la filantropia è amore dell'uomo secondo concetti di giustizia, di solidarietà, sono cose molto buone, non c'è niente di male. Ma l'amore cristiano è una relazione con Cristo. Quando si fanno le cose alle persone, non le si fanno perché uno ha un concetto, una strazione di bontà per cui fa le cose. E logicamente saranno limitate dal concetto, limitate anche dal merito, dalla giustizia, dall'opportunità, dalla quantità di parametri umani che resteranno sempre comunque validi in questo ambito. No, qui si va oltre. Si va a una relazione con Cristo. Ovvero sia, si fa quello che Lui ha fatto per noi. Qui entrano altri parametri. Qui la giustizia diventa meno importante. Perché non faremo le cose solamente per chi se lo merita, lo faremo anche per chi non se lo merita, perché Cristo ha fatto questo con noi. Noi in questo entreremo in categorie come l'amore al nemico, che sono straordinarie oltre l'umano, che sono solamente del tipo che appartiene allo Spirito Santo, non appartiene allo Spirito umano, ripetiamo. Qui noi non facciamo le cose perché sono giuste, e io con la mia volontà ho capito che vanno fatte, ma perché io ho ricevuto tanto. Si parte nelle opere di misericordia da come Cristo le ha applicate a noi, e quindi non le facciamo a Lui. Noi amiamo Lui che ci ha tanto amato, quindi non ho bisogno che l'altro se lo meriti quello che io gli faccio. Lo faccio anche se l'altro non se lo merita. Lo faccio perché la mia relazione con Lui, in un certo senso è una triangolazione con Cristo. Io lo so che l'altro è povero, è povero come sono stato povero io, per questo userò misericordia, userò pazienza, secondo una misura che non è la misura della mia giustizia, dei miei poveri concetti umani, ma secondo la misura dell'amore di Cristo, il quale, quando ero carcerato nelle mie schiavitù, nelle mie assurdità, è venuto a liberarmi, è venuto a visitarmi, ha avuto pazienza con me. Quando avevo fame di una fame più profonda, non mi ha lasciato senza sostegno. Quando ero malato delle mie malattie interiori, quelle invisibili, quelle che si vive tranquillamente senza mostrarle, Lui ha avuto pazienza con me, piano piano mi ha preso per mano e mi ha condotto a riconoscere la mia malattia e mi ha insegnato a vivere nella sua salute. E' dalla relazione con Cristo che partono le opere di misericordia, altrimenti sono solamente delimitate dallo spazio della nostra razionalità, che è tanto piccola, che è tanto mediocre.